E' un passo in più ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono marzi e qui ci troviamo nell'interfaccia di uncharted l'eredita perduta ragazzi come vi avevo anticipato che avrei portato sul canale questo gioco eccolo qui ragazzi non posso portare live perché molto probabilmente la night dog abbia dato live su ps4 quindi non riesco andare in live con questo gioco almeno per il momento spero in seguito si potrà fare altrimenti continuerò a portare video del gioco giusto per farvi vedere com'è questa è una breve anteprima non giocherò vi farò vedere solamente l'inserimento della storia di uncharted e basta colgo l'occasione ragazzi per ringraziare play giochi editor che sarà il mio futuro sponsor del canale ragazzi vi lascerò prossimamente tutto quanto per contattare play giochi editor potrete trovare giochi tutto quello che vi occorre per quanto riguarda gaming informatica e altro ancora ragazzi potrete prossimamente vi lascerò anche il sito internet e tutto il resto insomma tutti i suoi contatti ora mi sto organizzando un attimino sul canale ma a breve avrete veramente tutti i contatti quindi mi raccomando continuate a seguire il canale per sapere qualcosa di più su questo sponsor su play giochi editor su tutte le sue offerte e tutto il resto ragazzi quindi detto questo vi lascio al video non aggiungo parole in più e un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti quella ti sta benissimo ti mette in risalto gli occhi tu dici se ne compri due paghi la metà wow ancora tu è tu il negozio no è di mio papà quant'è 800 rupie grazie 800 rupie ok ok per te 5 e 50 incredibile allora tuo padre ti lascia spesso da sola no è andato a combattere i ribelli l'ha obbligato l'esercito indiano no è partito volontario davvero se fosse stato per me non avrei lasciato qui da sola ok queste sono 300 e nuova offerta 400 rupie più ganesh te lo sconsiglio è rotto vedi non conosci la storia ganesh affrontò per la shurama mentre era guardia della porta del padre per difendere l'onore del padre sciva e restò con la zanna mozzata per la lotta interessante comunque non è in vendita giusto in tempo ok senti 600 rupie tieni il resto ehi aspetta ti serve una guida e quanto mi costerà ehi aspetta ti serve un'issima Grazie a tutti.